Allora, quanti sospiri, mister Gemini, Andrea, che succede? 7-1, finale conquistata. I ragazzi sono stati bravissimi, ci hanno creduto fino alla fine, partendo dal primo giorno, sempre allenati con costanza e hanno raccolto i frutti della loro dedizione. Io mi sono permesso, insomma, stavo lì quel presidente della Sportwear e gli facevo notare come fai giocare a questi ragazzi. Cioè, è un perenne inquadratura del cerchio, come dico io. Cioè, dalla serie se stersi dietro, poi sposti avanti, zitti che si inserisce. Cioè, è bello, bello da vedere. Mi hanno chiesto una mano e io ho provato a trasmettere loro qualche principio del calcio a 5. La bravura non è stata mia. La bravura è stata la loro che si sono dedicati a far questo. Perché poi uno può parlare, parlare. Se poi non è seguito, rimane al vento. Quindi, ripeto, sempre merito dei ragazzi. Io sto qui per sbaglio. Tu poi rimani sempre senza voce, no? Dici, io... Eh sì, non voglio parlare né prima né dopo, per questo parlare durante. Questa finale, la prima finale dei tuoi ragazzi... Della storia dei Foxy. Dei Foxy. Dei Foxy. Mi sembra il terzo anno che... Secondo. Secondo anno. Quindi, cioè, è ancora più concentrata la cosa, ancora l'evoluzione è da rimarcare. Adesso ci giochiamo, ci godiamo la finale. Con una storica come il GSA che... Contro una grande squadra che, fin dall'inizio, è partita con i pronostici a favore. Adesso noi siamo lì. Con un rientro di Campetella che... Che non è poco. Che non è poco per loro, nel senso che... Ce la giochiamo. Vedremo poi come andrà a finire. Comunque, in ogni caso, per noi è una vittoria. Già esserci. Se poi vogliamo completare l'opera, perché no? Quindi, un 21 giugno con le scintille. Sì, sicuramente. Magari anche con i fuochi d'artificio finali. Complimenti visto, allora ci si vede venerdì. E grazie alla Sportwear.